come modificare una camicia da uomo sul mio canale youtube trovi diversi video tutorial in cui ho modificato tante camicie da uomo dai più semplici per modificare maniche colletto a quelle più particolari come questa o questa ho combinato anche più camicie insieme e le ho trasformate in maniera davvero irriconoscibile ti aspetto sul mio canale youtube